È uno sprezzo di pericolo che costa caro e purtroppo è una gran passione. Come Alessandro o anche altri, sono bravissimi, però sai, lì con la tuta alare sei in balia di niente. Passi a 200 all'ora tra le rocce ed è un attimo sbagliare. Alessandro Dallapozza, 47 anni, base jumper di Schio, deceduto ieri dopo essersi lanciato con una tuta alare sulla Gordino, è riscritto l'associazione Paracadottissi di Vicenza. Il presidente lo ricorda bene. Ma Alessandro era una persona sempre sorridente, era come, lo consideravo mio figlio. La settimana scorsa l'avevo invitato a una cena qua con degli amici paracadottisti di cinghiale, di roba ogni tanto, e dice, guarda, Guido dice, non vengo perché vado nelle Dolomiti, eccolo qua. L'appuntamento con il suo drammatico destino. Alle 10.30 si è lanciato dalla cima del Monte Framont e poi non si è saputo più nulla. Ho ricevuto la notizia ieri pomeriggio da un socio nostro, è stato un colpo per me e per tanti altri, perché dopo si è sparsa la notizia subito. Era iscritto alle sessioni di Vicenza come associazione Paracadottissi da 20 anni, sì che lo conosco da ragazzino praticamente. Lui ha fatto il militare come nel nonno reggimento Paracadottissi d'assalto col Moschin. Lui è stato anche in Somalia come soldato di leva. A Schio Alessandro lascia una sorella alla mamma Luigina. La data dei funerali non è ancora stata ufficializzata. Che cosa lascia Alessandro a lei in questo momento? Ci lascia un vuoto perché era un bravo ragazzo. Non lo dico perché adesso è mancato così, ma lo dico veramente, era un bravo ragazzo.